Che cos'è l'uomo nella natura? Un nulla, un controllo dell'infinito. Cos'è un controllo dell'infinito? Ma per presentargli un altro prodigio altrettanto meraviglioso, cerchi tra quanto conosci, che cos'è l'uomo? Zampe congiunture, vene nelle zampe, sangue nelle vene, umori nel sangue, gocce negli umori, fapori meglio che ci portano le conoscenze naturali. Se esse non sono veritiere, non c'è affatto verità nell'uomo. Il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi spaventa. Visualizzazione dell'aria, in onore di Bruno Munari. Grazie. 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 Grazie.